Una storia di ecomafia, di indifferenza, di inefficienza, di connivenze, una vasta area tra le province di Chieti e Pescara che per anni ha raccolto veleni di ogni tipo, una discarica a cielo aperto incontrata a Venna di Tollo che oggi vede finalmente, dopo 20 anni, l'avvio degli interventi di bonifica. È una bonifica molto importante, io ricordo che all'atto della campagna elettorale per le scorse regionali fu il primo e anche il più importante degli impegni che vogli contrarre con quella comunità. Conosco molto bene quella situazione e in effetti la pericolosità non solo dei rifiuti che erano siti in modo illegale poi in definitiva in quel luogo, ma soprattutto i rischi eventualmente connessi a una esondazione erano davvero molto elevati sia per l'ambiente che per la salute dell'uomo. Abbiamo stanziato questi 550.000 euro che servono a risolvere una delle emergenze ambientali più macroscopiche dal punto di vista della qualità dell'inquinamento che avevamo in regione Abruzzo. Non è l'unica, insieme alle altre stiamo prendendo di petto e come siamo abituati a fare noi una per volta per dare delle risposte a delle esigenze del nostro territorio e quindi anche delle nostre comunità che laguivano ormai da oltre 20 anni, come in questo caso e come nel caso di un prossimo tema di cui metteremo a conoscenza la stampa che riguarda un sito in provincia dell'Aquila che abbiamo liberato da uno stoccaggio pluriventennale da 26 anni, erano lì, qualcosa come 3 chilometri e 800 mila metri di tubi di amianto in un terreno di proprietà regionale.